Che cosa è questo rumore? Oh, ma che cos'è? Oh, accidenti! È un mostro! Salvatevi! Cap, non importa quanta paura tu abbia del vagabondo, non ti possiamo accompagnare ogni volta che devi venire da queste parti? Cos'altro posso fare? Ho troppa paura di venire qui da solo! Deve essere brutto essere tanto spaventato. Anche io ho un po' paura in realtà. Io sono terrorizzato. Qualcosa potrebbe coglierci di sorpresa. Va bene, adesso calmatevi. Anche se fosse così, saremmo comunque quattro contro uno. Beh, comunque, mi domando che cosa farà la squadra di soccorso. Cos'è successo? Credete sia il maleficio? Cosa? Aspettate, ragazzi. Cos'è questo suono che sento? Toglietemi di mezzo! Non avvicinarti! Non scagliarci contro dei malefici! Vattene dalla nostra città! Vattene! Devo arrangiarmi, quindi toglietemi di mezzo! Perché devo avere questo aspetto? La chiusa ha una perdita! Che cosa faccio? Se la diga cede, la città finirà sott'acqua! È troppo forte per me! Non ce la posso fare! Oh! Oh! Qualcuno mi aiuti! Oh! E tu che fei? Sono della squadra di soccorso! Stanno arrivando i rinforzi! Resisti! Va bene! Amber, quando arriveremo dovrai stabilizzare la diga! Roy, quando Trachy si sposterà, chiudi il buco con un masso! Ricevuto! Trachy, resisti! Siamo pronti, Poli! Sono pronto anch'io! Trachy, adesso con attenzione, spostati! Roy, sbrigati! Ci sono quasi! Trachy, hai salvato la nostra città! Grazie di cuore, Trachy! Non mi dovete ringraziare! L'ho fatto per salvare il mio terreno! Dunque, me ne vado! Aspetta, Trachy! Siamo venuti fin qui da te perché vogliamo diventare i tuoi amici! Amici? Sì! Se trovassi il modo di confidarti con noi, potremmo diventare tutti i tuoi amici! No! Non fa niente! Sono sicuro che non piacerei a nessuno in ogni caso! Non se avessero la possibilità di conoscerti! Io già ti considero un mio amico! Anche io! Devi solo lasciare che tutti vedano la persona che sei davvero! Sì, Trachy! Io so che puoi farlo! E noi ti aiuteremo! Ma... voi non... Io... Oh... Trachy! Ti prego, Essi! Diventiamo amici, Trachy! Neanche oggi vuole uscire! Speravo tanto di conoscerlo! Trachy, se ancora non te la senti di uscire, possiamo tornare dopo! Aspettate! Usirò fra un attimo! Ti mi interessa! Beh, ciao! Io mi chiamo Trachy! Piacere di conoscere... 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 Piacere di conoscere...